Siamo alla fine del ventesimo secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia la razza umana era sopravvissuta. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano. Sulla faccia della terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano.